Buongiorno a tutti, oggi è il 26 di gennaio e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, l'unico sito che vi consente di poter condividere le vostre idee di trading e sugli investimenti in generale. Questa è una settimana che si apre dopo la scorsa ottava che ha visto degli avvenimenti particolarmente importanti, il primo senza dubbio è stato il quantitative easing, cioè la scelta di Mario Draghi di stampare moneta, di mettere liquidità all'interno del mercato. Questo ha avuto ripercussioni dapprima sul mercato dei cambi delle valute, dove abbiamo visto l'euro-dollaro precipitare fino in area 1,12 e sul mercato, queste le ripercussioni le vedremo a mio avviso a breve, sul mercato azionario che probabilmente non farà altro che avere delle performance positive, nel senso che l'immissione di liquidità porterà a mio avviso a una crescita del mercato azionario nel medio e lungo termine. Ma non è stata la settimana solo di Draghi, è stata la settimana anche delle elezioni in Grecia, delle elezioni laddove abbiamo visto trionfare la sinistra anti-europeista di Alexis Tsipras e il suo partito Siriza, quindi a questo punto per l'Europa si viene a creare un problema, un problema importante legato a quelle che saranno le scelte con riferimento all'austerità che ovviamente l'Europa proporrà alla Grecia e che la Grecia dovrà recepire o meno, quindi insomma è una settimana che si apre all'insegna dell'incertezza questa, infatti tutti i principali indici europei, adesso li andiamo a prendere, sono in territorio negativo, pranne la Germania che è leggermente positiva, ma comunque non è stata presa dai mercati con particolare favore la situazione legata appunto alla vittoria di Tsipras in Grecia. Ricordiamo sempre che la Grecia è comunque un paese che seppur importante risulta essere marginale nell'economia europea e quindi insomma muove in maniera significativa a quelle che sono i mercati, ma più che altro a livello di speculazione perché proprio il PIL greco, così come appunto l'importanza della Grecia all'interno del sistema euro è comunque importante, ma non così determinante. Ma vediamo un po' invece quello che succederà questa settimana, perché questa settimana è una settimana altrettanto importante dove avremo una serie di dati macroeconomici tra cui appunto il PIL degli Stati Uniti, ma soprattutto il FOMC, che è il Federal Open Market Committee, questo sarà un dato che uscirà il 28 mercoledì, dove si parlerà appunto, dove si vedrà quale sarà la politica della Fed alla luce di quelle che sono state le indicazioni di Mario Draghi la settimana scorsa, quindi una settimana nella quale attendiamo una discreta volatilità anche in questa settimana, quindi il mese si concluderà con una volatilità in aumento e siamo convinti che questo potrà creare ottime opportunità di trading. Vi segnalo sul fronte valutario come il franco svizzero quoti ancora sotto la parità, quindi al momento un franco vale più di un euro, questo è quello che emerge appunto dagli scambi, questo risulta essere un cross ancora troppo complicato troppo rischioso da tradare dove la volatilità media è sicuramente in aumento, quindi insomma vi consigliamo su questo cambio di utilizzare la massima cautela. Con riferimento invece a euro-dollaro vediamo il livello di 1,12 è stato rotto la settimana scorsa e questa mattina si prova un piccolo accenno di rimbalzo. Qualora dovesse chiudere in territorio positivo ci aspettiamo un'altra giornata diciamo sempre in territorio positivo, dai livelli di 1,14 secondo me si potrebbe ricominciare a prendere nuove posizioni a ribasso, sempre su questo cross, dal momento che non pensiamo che il movimento ribassista sia concluso, si sia esaurito appunto con le parole di Draghi, anzi. Sul punto di vista invece, seguendo quello che succede sui mercati azionari, abbiamo gli spread che sono leggermente in sofferenza e siamo usciti dal nostro ordine sul FIB, quindi abbiamo chiuso la nostra posizione che avevamo al rialzo sul FIB e adesso aspettiamo il primo ritracciamento per entrare nuovamente al rialzo. Con questo vi ricordo che nella settimana entrante ci sarà il corso Dai Energia al tuo trading, un corso veramente bello, quello del 29 di gennaio, vi esorto a cliccare sul tasto di sovraimpressione per iscrivervi e appunto vi consiglio di non perderlo. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.